Professor Alievi, una serie di incontri per tematiche importanti tra cui perché si fugge dall'Africa? Sì, perché la questione cruciale di immigrazione se ne parla sempre guardando gli effetti da noi. Si analizzano molto poco le cause, che sono tante, perché quelle più note sono che si fugge ovviamente dalle guerre, dai conflitti, dal terrore, dalla fame. Non si perse abbastanza attenzione al fatto che si fugge anche dall'instabilità politica, dalla corruzione, dalle burocrazie, che sono molto peggiori delle nostre, e che creano problemi allo sviluppo in un'area dove non sarebbe necessario fuggire, perché oggi l'Africa è la nuova frontiera del mondo. Gli imprenditori stanno già pensando che dopo la Romania, dopo la Cina, dopo le tigre asiatiche, i nuovi luoghi dove investire sono proprio lì. Ci sono paesi che crescono a due cifre, quindi può diventare un'enorme potenzialità. Noi dovremmo favorire, tra l'altro, la formazione di queste persone che aiuterebbe il nostro paese in termini diplomatici, ma in termini anche proprio economici e di rispetto internazionale. L'Africa è un territorio vastissimo. Non tutti sanno che è anche costellata di tante, moltissime isole, paradisi effettivamente sulla terra. Ma che cosa attira quindi queste persone in Europa? Un sogno che alla fin fine si infrange sugli scogli di alcune aree italiane piuttosto che di fronte a una frontiera? Allora, per i più disperati dovremmo dire che cosa li spinge via, però. Ed è appunto la guerra, la tortura, ci sono ancora dittature ferate, la violenza comunque della vita quotidiana. Per molti però è vero potrebbe essere un'opportunità, non solo in termini di turismo, ma in termini di industria, in termini di sviluppo, di comunicazioni e così via. È davvero una nuova, enorme, straordinaria frontiera. Però in questo momento ci sono dei costi che è utile anche per noi aiutarli a condividere in qualche modo, perché sono investimenti in realtà, sono investimenti sul futuro dell'Africa e anche sul nostro, perché il nostro futuro sarà legato alle relazioni che avremo con l'Africa emergente.